Con un inizio rapido ed ambizioso, Filippo Pagani nel 1999, a soli 25 anni, inaugura in Milano la web agency Area 51 Lab, sviluppando progetti per grandi clienti e per importanti agenzie di comunicazione. Negli anni, Area 51 Lab fa proprie diverse competenze digitali e creative, sviluppando progetti e-commerce, siti web e applicazioni mobile. Ogni progetto realizzato deve essere visibile e conosciuto dagli utenti. Per questo motivo viene posta grande attenzione da parte dei professionisti di Area 51 Lab al posizionamento sui motori di ricerca e alle attività di comunicazione digitale. Area 51 Lab è composta da un team di esperti, ciascuno con una propria competenza, che lavora per offrire ai propri clienti nuovi strumenti online per vendere, comunicare, esistere in maniera unica e personale nel panorama digitale. I tuoi obiettivi sono la colonna portante di ogni nostro progetto. Raggiungili con noi, costruiamo insieme la tua storia digitale. Grazie a tutti!